Siamo con Thomas Orsetti, uno dei responsabili del presidio che avete creato qui in via Armistizio, nella via che collega Padova ai comuni termali. Ecco, Thomas, come sta andando? Siete qua da un paio di giorni, se non sbaglio. Siamo qua da lunedì mattina, dalle 8 ininterrotti, quindi sta andando bene perché la gente non si lamenta, è solidale con noi e quindi non ci sono stati problemi finora, ci scusiamo un po' per il disagio, per i rallentamenti, però è una cosa abbastanza normale, poi comunque la gente capisce, non ci sono problemi. Ecco, ci ripeti cosa chiedete? Noi chiediamo la caduta in tolto del governo, perché effettivamente siamo stanchi, ma non parlo solamente di operai, di disoccupati, ma anche noi, imprenditori, artigiani. Ecco, quello che ci piacerebbe è vedere un attimino anche di persone di questa classe che produce, insomma, anche delle piccole e medie imprese o grandi imprese che venissero qua con noi a protestare contro questo sistema. Perché, guarda, è stata emblematica una cosa, ieri ho fermato una persona, si è fermata lui, a verità, per raccogliere un volantino e la frase che è stata più bella, insomma, che ho sentito in questi giorni qua è questa, noi non dobbiamo chiamarli onorevoli, né funzionari, né sindaci, ma dobbiamo chiamarli con il vero e proprio nome, cioè dipendenti statali, in quanto tali siamo noi che li paghiamo. E quindi è giusto che loro mantengano i nostri interessi e non che facciano i loro.